Tutto a posto, Kevin, sta la grande. Che ti ha detto? Racconta, racconta. Non si dicono queste cose, si twittano queste cose, io non twitto. Allora racconta, no, seriamente, come sta? Tutto a posto, tutto a posto, tutto bene, tornerà veramente questo giro forte. Ciao a tutti. Ciao, ciao, aspettate tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.